Ciao a tutti, linguaggio del corpo femminile in amore. In questo video voglio spiegarti un attimino il linguaggio del corpo femminile in amore. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E ti ricordo che se ti iscriverai a tutti e quattro i miei canali potrai entrare a far parte della community più grande italiana per quanto riguarda l'amore, la seduzione, la crescita personale e potrai raggiungere dei risultati notevoli, dei risultati molto importanti per quanto riguarda la possibilità di conoscere nuove persone, quindi devi iscriverti a tutti e quattro i miei canali crescita personale, Massimo Terramasco, felicità benessere, amore e autostima. Ma veniamo al tema, troverai l'amore a breve al tema del linguaggio del corpo femminile per capire come trovare l'amore. Se tu vuoi trovare l'amore, se vuoi conquistare una donna in tempi brevi, come fare? Quindi vediamo il linguaggio del corpo femminile. Le donne, diciamo, apparentemente sembrano complicate, complesse e però imparare a leggere, diciamo, i segnali del corpo di una donna vuol dire che invece in tempi brevi potremmo riuscire a conquistarla perché avremo delle informazioni molto importanti. Tra l'altro, una volta che saprai leggere il messaggio del corpo di una donna ti rendrai conto che la conquista può essere molto rapida perché le donne vengono attratte dagli uomini in tempi molto brevi. Entro i primi minuti, servono pochi minuti per generare attrazione, però bisogna sapere leggere e utilizzare, diciamo, il linguaggio del corpo nel modo corretto. Quindi cerchiamo di capire se una donna può essere interessata o meno. Ovviamente ci sono diverse possibilità. I segnali, diciamo, sono segnali che possono essere, diciamo, dei forti indicatori soprattutto se ne trovi, diciamo, più di uno. Non è che un unico segnale emesso un'unica volta farà sì che tu potrai sicuramente piacere a questa donna. Però se quando una donna ti vede, ad esempio, si accarezzi i capelli, questo è sicuramente un segnale del linguaggio del corpo che le interessi e che le interessi anche molto. Ovviamente se, diciamo, l'accarezzarsi i capelli accompagnato da un sorriso, accompagnato da una situazione, diciamo, gratificante in questo modo, sicuramente è un segnale molto, molto importante. Anche se un altro segnale è il mordicchiamento delle labbra. Se avviene sul mordicchiamento delle labbra inferiore quando ti vede, c'è un interesse più sentimentale, più di coccole. Se invece c'è un mordicchiamento del labbro superiore, vuol dire che questa donna è interessata a te in maniera più sensuale. Quindi questo è importante. Se siete seduti, tieni presente che l'accavallamento delle gambe con il piede che punta nella tua direzione è quello che, diciamo, è quello che indica che c'è un interesse verso di te. Anche se scuote la testa, si alza i capelli, in questo modo è un altro segnale. Altri segnali molto maliziosi che fanno le donne spesso inconsapevolmente, talvolta non troppo, però quando vogliono attrarre, vogliono che tu fissi l'attenzione, ad esempio si sistemano un po' il vestito, in modo distratto, magari scoprendosi le gambe oppure mostrandoti distrattamente il décolleté. Diciamo che sono tutti segnali forti che indicano che è comunque coinvolta con te. Anche se cerca un contatto fisico distrattamente, magari si avvicina. Ecco, quindi sono un altro segnale molto forte che è coinvolta. Anche se tende, diciamo, a protendersi quando parla, a fare dei leggeri movimenti in avanti, inconsapevoli, ecco, questo è un altro segnale che c'è un coinvolgimento. Ecco, un'altra cosa interessante è che ride alle battute che fai e poi se ti guarda, se cerchi di mantenere l'icontact e ovviamente al 100% c'è un coinvolgimento nei tuoi confronti se tu puoi notare il fenomeno della midriosi, cioè il fenomeno della dilatazione pupillare che inesorabilmente, inequivocabilmente fa capire che questa donna è coinvolta. Un'altra cosa è quando è molto attenta a quello che tu le racconti e ad esempio ricorda sempre i dettagli. Se si attorciglia i capelli è interessato a te, ma da un punto di vista anche eccessivo, possessivo, perché è un desiderio di morboso possesso, diciamo, l'attorcigliarti, un volere legarti. Altri segnali molto interessanti sono che si infila e si sfila degli anelli. Questo è un segnale di un interesse anche di natura proprio fisica, di natura erotica nei tuoi confronti. Quindi questo è un segnale. Ecco, quindi questi sono tutti segni, segnali, che indicano che una donna è interessata a te. Altri segnali sono che l'esempio quando ti parla tende a mostrarti i polsi, tende a mostrarti la zona dei polsi. Ecco, sono tutti segni che si sta veramente coinvolgendo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e ti ricordo che se ti abboni, è possibile abbonarsi, abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande in apposite live. Inoltre ti ricordo ancora che sul canale, se ti iscrivi a tutti e quattro i miei canali gratuitamente, crescita personale, Massimo Terramasco, felicità benessere, amore autostima, potrai entrare a far parte della più grande community italiana per quanto riguarda la seduzione e l'amore e inoltre potrai partecipare ad apposite chat dove ottenere delle risposte e conoscere soprattutto persone nuove. Quindi iscriviti a tutti e quattro i miei canali. Ciao a tutti!